allora ragazzi ciao da nick e bentornati qua sulla nick e craft ragazzi allora eravamo rimasti che forse vediamo dico forse se ce la facciamo in questo gameplay a creare il reattore nucleare intanto ragazzi allora mi sono tolto l'armatura lì quella antiradiazioni quindi devo stare attento non devo toccare nulla di radioattivo come vedete ragazzi ho alla fine creato 6 barre di uranio arricchito beh insomma 6 barre di uranio e 3 barre in più anche le ho create di riserva dovrei continuare a creare ah qui ce n'è altre di cose quindi abbiamo il necessario volendo per altre barre perfetto allora qui ragazzi come vedete ho tappato e praticamente come potete vedere ho già sistemato un po' la situazione appunto come vedete qui c'è il cavo praticamente ragazzi ho deciso di mettere il reattore nucleare proprio qui allora chiaramente chiunque dirà tu sei pazzo però ragazzi questo è un reattore nucleare diciamo configurazione sicura potrei lasciarlo operativo 24 ore su 24 in teoria e non dovrebbe succedere un bel niente allora qui c'è lo scavo ragazzi lo scavo che ci porta per l'appunto qui dove c'è il cavo questo appunto è il cavo che porta la corrente diciamo nel converter quello che converte la corrente e in più qui ci deve passare un altro cavo di fatti se guardate qui c'è il buco perché? perché di qua ci passa poi un altro cavo e vi faccio sapere e vi faccio vedere più che sapere allora vediamo un po' cominciamo come si crea sto benetto reattore nucleare beh si chiama nuclear nuclear reactor partiamo dalle cose partiamo insomma da creiamo sti cosi qua insomma dense lead plate ok 9 lead plate diventano un denso ok quindi devo devo fare cioè il martello usurato ne ho fatti sei ovviamente so pochi quindi un nuovo martello magari lo facciamo così ok anzi facciamone qualcuno dai non c'ho voglia di stare lì ogni volta questi caspita dei martelli oh quindi uguale fanne tanti va mi tolgo il pensiero benissimo anzi no perché li dobbiamo portare sotto era lead no? perfetto allora abbiamo detto ne servono 9 e 9 18 27 36 36 36 di questi messi qua diventeranno lead denso al momento questo basta così lasciamo che il macchinario lavora noi torniamo qua e non pensiamo più a lead quindi diciamo che il lead dance ce l'abbiamo abbiamo bisogno adesso di questo è abbastanza facile benissimo quindi questo ce l'abbiamo questi ce l'abbiamo abbiamo bisogno di un generatore ok non è difficile non lo è per niente iron mi serve una caspita di re battery oh ce l'ho e scusa la re battery che fino ha fatto? re battery mi piglia per i cosiddetti ragazzi ecco qua eh voglio dire oh fino a un certo punto no? poi mi stai pigliando in giro se non appari quindi abbiamo tutto tranne il reactor chamber e qui servono altri no questi sono lead plate normali però ok queste sono lead plate normali abbiamo bisogno solo di basic machine e per fare basic machine abbiamo bisogno di questo adesso teoricamente abbiamo credo è stato facile non è stato poi così difficile come sembrava è stato abbastanza semplice uno due tre magnifico credo proprio ragazzi che abbiamo il nostro reattore nucleare tranne per il fatto che dobbiamo andare a prendere i nostri dance plate che sono qui sotto dovrebbe aver finito di compressarli eccoli qua ovviamente non abbiamo finito eh ci sono altre cose che vanno adesso craftate e forse sono pure più complicate ecco qua ragazzi il reattore nucleare sentite che il rumorino sinistro è partito appena appena l'ho raccolto è partito un rumore sinistro ecco qua il reattore nucleare ragazzi questi sono i diciamo questo è lo spazio che possiamo utilizzare questo spazio invece non possiamo utilizzarlo per utilizzare questo spazio dobbiamo aggiungere il reactor chamber il reactor chamber li abbiamo già craftati tre secondi fa ne sono serviti tre per per creare il reattore nucleare e praticamente ogni chamber che aggiungiamo sblocca un paio di caselle ma per la configurazione sicura che usiamo noi questa è diciamo al momento la sua configurazione finale al momento è così quando poi trovo configurazioni migliori posso aggiungere il reactor chamber benissimo ora ragazzi dobbiamo costruire altri moduli che vanno inseriti dentro al reattore nucleare e mo qui conosco le figure ma non conosco i nomi abbiamo bisogno di due di questi component e adesso finalmente possiamo fare due di questi bene questi ce li abbiamo adesso ragazzi dobbiamo craftare questi ne abbiamo bisogno tre ok oddio quanti motori mi servono sono delle ventole ne abbiamo bisogno 3 motori 1 ok quindi secondo motore terzo motore i motori ce li ho a sto punto 1 2 2 e 3 giusto mi pare che era così quindi mo questi li mettiamo dentro e dunque mi pare che se fa così però manca vabbè questo è facilissimo da facciamone un paio di questi va bene va bene anche così allora quindi di questi ne abbiamo bisogno abbiamo detto di ben tre perfetto perfetto quindi questi ce li abbiamo manca un'ultima cosa ragazzi da craftare e sono credo questi overclocked earth vent esattamente ok gold non è un problema earth vent a quindi devo fare ancora questi qua ok ragazzi siamo quasi ci siamo quasi ci siamo quasi mi pare che mi manca mi pare che non manca solo di di creare un po di oro devo fare giusto questo ok questo ce l'ho pure ne abbiamo fatto un bel po questi perfetto ragazzi eccoli qua ok dai non ci ho messo poi tanto penso che in meno di cinque minuti ce l'ho fatta l'importante è avere tanto ferro tanto oro tanto copper tanto tin e ce la fate basta che avete i martelli le 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 pinze ed è fatta è facile facile oh ecco che sto crepando le sete perfetto un'altra cosa che vorrei creare che uno di voi mi ha consigliato ma non mi ricordo chi ma comunque lo ringrazio lo stesso mi ha detto di creare i manichini perché effettivamente torna utile se io posso uno e due ne voglio usare due di manichini vabbè teoricamente ne dovrebbe bastare anche uno però comunque perché no uno me lo tengo anzi uno potrei anche metterlo dove lo metto lo metto qua per ora ok mettiamolo qua il secondo è quello più adesso che mi interessa praticamente lo voglio utilizzare quando praticamente dove che ho messo le cose ok no ok qui diciamo c'è ci posso mettere tipo al momento quello che sto indossando così che adesso tipo uso questo e infatti forse che è per questo che ho scelto di farne due probabilmente per questo motivo allora tu vieni con me a posto ok facciamo così che è l'ideale averne due bene praticamente tipo qua metto una cosa qui un'altra quindi tipo mi serve mi serve questo la tuta antiradiazioni boom adesso c'è la tuta antiradiazioni perfetto dunque ragazzi abbiamo tutto il necessario per far funzionare la nostra centrale nucleare ora ci clicco e allora dobbiamo mettere questi oggetti non a caso sparsi a caso ma vanno messi in un ordine preciso adesso io ho una figura diciamo una foto dove guarda appunto come vanno messi altrimenti facciamo danni vanno messi esattamente così questo va qua e questo va qua qui abbiamo appunto gli slot per il carburante ora non abbiamo finito appunto è meglio che l'armatura cioè è meglio che la tuta un attimino la poso perfetto allora non abbiamo finito perché rimane da posizionare un cavo il cavo appunto che vi dicevo poi vi dico no praticamente vi ricordate che questo questo dà segnale quando la batteria sta sotto il 50% si accende quindi dà segnale fino a quando la batteria non arriva all'80% quindi sfrutteremo lui per accendere la nostra centrale nucleare ok quindi questo dove me lo porto vediamo ok fin qua adesso vado sotto teoricamente dovrebbe funzionare se io metto lui qua penso di sì oh e dai ok 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 perfetto bene ovviamente sono rimasto incastrato ok ok no no ma non mi piace così è brutto è brutto messo qua è brutto ok facciamo che lo metto qua ok così è meglio mi smuovo meglio ci vorrebbe un altro po' di cobblestone dovrei averne sicuramente un bel po' ok ok qui chiaramente ci devo mettere il solito blocco questi li togliamo quindi teoricamente parlando ragazzi non appena da segnale il il generatore dovrebbe accendersi ovviamente non si accende perchè non c'è non c'è carburante all'interno e comunque non abbiamo le batterie poi così tanto scariche per niente le batterie non sono scariche eh però potrei fare una prova per vedere se funziona per vedere se funziona vorrei creare un altro capacitor un altro capacitor che ci vuole a farlo? ci vuole tutto quindi capacitor ok un'altra volta musica strana come dire non lo fare che te ne penti bene allora questo stacchiamo ok mo ragazzi facciamo una bella cosa per sicurezza faccio un backup così che se qualcosa va storto non devo tornare chissà quanto indietro ok ho fatto il backup quindi siamo tranquilli siamo tranquilli siamo tranquilli se succede qualcosa non ha importanza metto il capacitor qui e che fa si carica di che? ah c'era un po' di di carica nei cavi va bene c'era un po' di energia nei cavetti va bene quindi non importa siamo a 30.000 vediamo se funziona la centrale nucleare e quindi dovrebbe caricarsi questo capacitor eeeh dunque ovviamente eeeh per accenderlo provo di qua ad accenderlo eeeh facciamo così se il segnale eeeh anzi facciamo una bella cosa stacco questo prendo un una di questa allora gli do segnale ovviamente non c'è carburante quindi non è partito appena mettiamo dentro il carburante vediamo se parte ah mi devo mettere ovviamente la tuta antiradiazioni ok ci siamo tuta c'è prendiamo le barre di uranio ok nick eeeh il chimico vado non si accende quindi evidentemente il cavo non arriva nel punto giusto eeeh vediamo un po' il cavo dovrebbe essere qua ok ho un'idea metto uno qua ok così funziona di sicuro e qui devo come al solito tappare in qualche modo ok ci siamo raga è partito il reattore nucleare si è acceso ragazzi allora come vedete sta producendo 5 EU che sarebbero 20 RF praticamente niente ovviamente 20 RF non so niente mettiamo altre barre di uranio e vedete che praticamente oh cominciano anche ad accendersi le ventole perché vedete che si sta riscaldando adesso ho messo dentro tutte le barre ragazzi adesso praticamente sta producendo 100 EU che sarebbero 400 RF vedete vedete vi dicevo che vi dicevo che per l'appunto questa centrale è sicura difatti se guardate la barra della temperatura non si alza proprio teoricamente non prendo radiazioni ragazzi non ne prendo le radiazioni le prendete se la temperatura va molto in alto altrimenti radiazioni non ne dovreste prendere perché normalmente è così vediamo un po' qui c'è la batteria che teoricamente adesso si riempie non si riempie per niente ok ragazzi ho trovato il difetto pare che sto capacitor non si carica se il cavetto io lo metto dalla parte di sotto vedete che adesso sta funzionando si sta caricando quindi praticamente se metto sto coso qui sopra non funziona io sta cosa non la sapevo cioè non la sapevo minimamente che il problema è perché va messo accanto va bene anche perché mi pare strano devo dire che qui sopra casa alla fine i cavetti li ho tutti collegati di sotto quindi è proprio una cosa che non mi spiego non riesco a capire quindi insomma ragazzi vedete che adesso effettivamente abbiamo ok adesso abbiamo mille in uscita perché praticamente il nostro energy bridge è carico ma adesso riceve 400 rf che sono quelli appunto che sta producendo la centrale nucleare vedete alla fine sti 400 rf non pensate siano tantissime alla fine praticamente 400 rf sono uno due tre quattro e cinque sono cinque motori di questi cioè praticamente abbiamo una centrale nucleare che produce quanto cinque di questi generatori quindi chiaramente dite ma non conviene quasi neanche avere sta centrale nucleare se alla fine sti motori producono anche di più beh chiaramente c'è da dire che la centrale come vi dicevo si può espandere però ovviamente bisogna riuscire a trovare il sistema giusto di non farla chiaramente esplodere bisogna quindi avere sempre un raffreddamento ottimale in quel caso può produrre tantissima energia e poi ovviamente le barre di uranio credo che durano più della lava e quindi conviene anche per quello quindi sta funzionando sta funzionando adesso finalmente posso tappare il tutto si posso tappare il tutto perfetto andiamo a dare un'occhiata sotto ok quindi ragazzi abbiamo la nostra centrale nucleare che ovviamente però adesso la devo ricollegare con la batteria normalmente vedete che non si sta scaldando per niente questi teoricamente non dovrebbero consumarsi finché è così però chiaramente vedete che le barre di uranio a poco a poco si vanno scaricando ma comunque si scaricano in circa tre ore quindi e io per l'appunto non voglio usare la centrale nucleare costantemente la voglio usare solo nei momenti in cui a noi manca solo nei momenti in cui a noi ci manca insomma o la benzina o la lava quindi diciamo che vorrei usare la centrale nucleare solo come emergenza solo come energia di riserve di emergenza perfetto quindi questo posso andare a collegarlo qua sono capacitor sapete che vi dico lo lascio qui a caricare ma perché no tanto alla fine forse forse che lo vede addirittura il monitor vediamo se lo vede eh sì il monitor lo vede quindi potrei anche tranquillamente lasciarla al momento lì che mi funziona benissimo anche lui come appunto riserva di energia allora togliamo questo vedete che si è fermato no? sentite che si è fermato il reattore io a sto punto vado di nuovo qui a a dirgli di partire nel momento magari che abbiamo la batteria insomma quando la batteria scarica il 40% e me la carichi fino all'80% bene quindi praticamente adesso sarà il power monitor a ordinare al reattore nucleare quando accendersi quindi quando le batterie scenderanno sotto il 40% si attiva il generatore nucleare e così ragazzi riusciamo ad avere energia eh di emergenza la vorrei dire andiamo qui a coprire ce l'ho fatta ok per caso che si vede in questo modo ma comunque vabbè meglio meglio di prima che si vedeva il buco ok teoricamente dovrei metterne qualcuno anche la andiamo un attimo a tappare sti buchi una volta per tutte ce l'ho fatta bene ok ok se vedo un altro buco la quindi questo fammene un altro oh perché c'era uno mi ricordo che mi ha fatto un commento che mi ha detto Nick ancora non hai tappato il buchi ora penso che vi potrei dire bravo Nick che finalmente l'hai fatto ok l'ultimo questo lo mettiamo sotto dove abbiamo appunto la centrale nucleare in modo tale che copriamo quel blocco questo qui ah perfetto ok me ne avanza uno che poi sicuramente trovo dove metterlo quindi ragazzi abbiamo la centrale nucleare e bisogna dire che a malapena si nota no è messa così cioè non sempre neanche una centrale nucleare va bene comunque ragazzi ci fermiamo qui questo sarà una cosa che proveremo in futuro quando avrò consumato le barre di uranio quindi ragazzi mi raccomando come sempre commentate iscrivetevi lasciate un bel pollicione in su ci becchiamo presto ragazzi ciao alla prossima